Bene amici, lui è Oppo Find X, versione non Pro, il comparto cam è praticamente lo stesso, sempre in collaborazione con Hasselblad, anche il design con un MA, il display è molto bello, con il sensore sotto lo schermo funziona sempre bene, batteria 4800 mAh, ma basta le specifiche, arriva dopo la schermata con quelle. Bene, volevo fare un ragionamento generale anche sul prezzo, lui costa quasi 1000€, 999,99€, non molto di meno rispetto al Pro, ma il design che, non lo so, è meno raccordato, ma soprattutto le prestazioni, forse il processore, lo Snapdragon 888, ormai sono viziato da questo nuovo Snapdragon 8 generazione 1 che è molto efficiente, l'888 era un po' Dr. Jekyll, Mr. Hyde, e qua si è riconfermato quel processore. Non lo so, anche qualche sbavatura, forse un display che è curvo, quindi un pochino troppo sensibile ai bordi, allora, premessa, i telefoni ormai vanno tutti molto bene, lui va comunque molto bene, c'è quel MA dovuto forse al prezzo un po' troppo vicino al Pro e alle sbavature, ma andiamo a scoprirle insieme nella recensione completa. E partiamo ovviamente dalla confezione dove troviamo una coverina bella, nera, abbastanza sottile e morbida, aumenta anche il grip, ma devo dire che il grip non è male. Poi il caricabatterie da 80W, ricarica molto rapida, abbiamo una batteria da 24Wh, wireless 30W, wireless inversa 10W, 50% con il cablato in 12 minuti, 100% in 30, e poi abbiamo il cavo dati oltre all'adattatore Type-C USB normale per collegarlo magari ai PC. Incidente diplomatico con, quasi sfiorato, con le Oppo Enco Free 2, quelle sì che sono veramente delle ottime cuffie, promessa da marinaio, non lo so, no, arriva il confronto delle cuffie. Vediamo i materiali, vetro, satinato, ecco, quel raccordo bellissimo del Pro qua c'è, ma è nascosto, praticamente non si vede e il design cambia, a mio avviso, completamente, molto meno cool. Bello però il vetro del verde sul pulsante di accensione e spegnimento, è bello il fatto che i pulsanti di volume siano dall'altra parte, quindi non ci si confonde. Qua sotto Type-C esce il video, altoparlante stereo, qua abbiamo due SIM, non c'è l'espansione di memoria, comparto cam, 50 megapixel OIS principale, 50 a grande angolare, che non grande angola tantissimo, 110 gradi, e poi la zoom 13 megapixel solo, 2 per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ovviamente non c'è la notifica, ma c'è l'always on display, come tutti gli ultimi software Realme, Oppo, bello, personalizzazione con una fotografia che ho fatto, una foto a mio figlio e avete visto, ha fatto quel graficismo. Niente, vi faccio vedere anche le informazioni sul dispositivo, qua abbiamo appunto lo Snapdragon 888 e abbiamo a disposizione 8 di RAM e 256 di memoria utente Android 12 con le patch di febbraio 2022 e la ColorOS 12.1, vi anticipo che comunque è una bella ROM affidabile, anche se qua ho trovato qualche lagghettino ogni tanto, ma vi parlo di batteria. Prima vi faccio vedere le ottimizzazioni di questa ROM che mi piacciono particolarmente perché, oltre ovviamente al risparmio energetico, nelle avanzate si può ottimizzare l'uso della batteria per non stressare troppo nel tempo e anche la ricarica wireless, 30W sono tanti, magari qualche caricatore ronza questa potenza, quelli wireless. Quando settiamo questa opzione, quando si va letto, lui abbassa automaticamente la ricarica wireless per A, non stressare la batteria, B, non stressare le nostre orecchie, non stressare il caricatore, ma l'autonomia purtroppo è un po' così così. Vado subito negli screenshot che sono qua e vi faccio vedere come nella giornata super stress, no, non si è arrivato con il 51% di batteria, ma si è dovuto tornare a casa perché mi si è scaricato il telefono alle 20 più o meno e l'ho dovuto caricare con questo utilizzo e con 4 ore e 25 di display. Questa è stata una giornata veramente tanto stress, veramente tanto 5G, veramente tanto fuori, poi ci sono state altre giornate più tranquille dove sono arrivato a sera con il 15%, quindi è un telefono che si scalda quando messo sotto stress e soprattutto in 5G è un comportamento veramente variabile. Batteria, vi dicevo prima, 4800 mAh. Ora, display 6,55 pollici, bello 120 Hz, AMOLED 1000 nits di picco che sono tanti, sotto luce del sole non ho avuto nessun tipo di problema e la cam anteriore 32 megapixel messa lì di lato a me non dà fastidio, ormai non vi dico che gli AMOLED sono belli, angoli, colori eccetera eccetera perché lo sappiamo, ma vi faccio vedere solamente una cosa, è un po' troppo sensibile ai bordi. Nell'uso quotidiano, non so perché, ma spesso mi è capitato con questo telefono di andare a prendere le parti laterali e quindi far partire cose a caso, anche quando lo prendi tranquillamente così, vedete, è troppo sensibile in generale il display pur essendo molto bello, anche quando si abbassa tanto, anzi facciamo da qua, la luminosità e le scritte non vanno a trascinare, non vanno a diventare rossastre, peccato solo proprio per quella troppa sensibilità. Parte telefonica, bene, non ho nulla di particolare a segnalare se non che il dialer non registra le chiamate, il voce non è stereo ma è potente, ho fatto qualche chiamata in macchina e non ho avuto nessun tipo di problema, quindi anche dalla capsula auricolare, abbastanza confortevole, chiamata assolutamente promossa. Vediamo un pochino le prestazioni, vi dicevo qualche leggerissimo lag, soprattutto quando inizia un pochino a scaldare, come dicevo l'888 purtroppo ha questo difetto. Sto in Instagram abbastanza bene, come praticamente quasi tutti gli Android, non benissimo, proprio colpa di Instagram, ma uso quotidiano, io lo promuoverei. Adesso ho perso per esempio un tocco, ecco, il discorso sensibilità display, a volte dopo sensibile a volte si perde qualche tocco, ma ripeto, nulla di drammatico e trascendentale, come va la vita, bene anche il feedback della vibrazione, anzi il feedback della vibrazione è proprio perfetto, come piace a me dovrebbe essere così su tutti i prodotti, e niente, questo è un po' il mio solito trittico. Vi dicevo prima, ROM affidabile, e a parte qualche lag ho avuto solamente un problema utilizzandolo con Android Auto, però poi l'ho riconfigurato, non mi sono più presentato, praticamente ho fatto una chiamata e non riuscivo più a mettere giù la chiamata, mi si è un po' bloccato, non so se derivi dal fatto che è una delle primissime versioni software, ma ve lo segnalo. Real Racing, ecco, che pirla, no, vedete anche qua quanto è sensibile lo schermo, cioè non ho toccato blocco schermo, ho fatto così, l'ho sfiorato, è come se, anche adesso, vedete, riuscisse a prendere il tocco a qualche millimetro di distanza, no, forse a qualche decimo di millimetro di distanza dallo schermo, e quindi quando lo si prende in mano, a volte si attivano funzioni strane, vabbè, vi dicevo, Real Racing, 8 secondi, l'ho attivato non tanto per farlo vedere, ma quanto per far vedere l'ottima modalità gioco, con la possibilità anche di registrare lo schermo e di magari silenziare anche le notifiche, si può giocare tranquillamente a qualsiasi gioco, la potenza c'è, ce n'è da vendere, ma andiamo al comparto fotocamera. Non mi perderei troppo, perché come sul Pro, completissimo, possibilità di fare video, fino al 4K, ovviamente 60 frame per secondo, ecco, a 60 frame per secondi, in 1080 si può comunque passare tra le 3 cam, vedete qua, invece se mi metto in 4K, sempre a 60 frame per secondo, non si può più passare dinamicamente tra le cam, vedete, si rimane sulla principale, ma questa è un po' una cosa comune a tutti gli smartphone, poi ritratto e poi in alto, insomma, non mi sto a perdere troppo, ripeto, ha le stesse funzioni del Pro, qua però vi faccio vedere le possibilità che dà la modalità Pro. Andiamo al punte scatta, andiamo a vedere come si è comportato, Album Camera, e partiamo da qualche foto fatta in aereo, stavo andando, pensavo a Monaco, in realtà dovevo andare a Francoforte, vabbè, una storia lunga, seguitemi su Instagram per scoprirla. Queste sono le foto fatte dall'albergo, e poi ho fatto una serie di video, che non vi posso far vedere perché c'era qualcosa in embargo, ma foto notturna, questa, ecco, questa è una, un pezzettino di video, anche per vedere la stabilizzazione, come si comporta di notte con la cam video, e poi, poi vi faccio vedere, mamma mia, Vice Beer, tantissima roba, ma siete pronti? Siete pronti perché sta arrivando il piatto, il piatto tipico di Francoforte, mamma mia, allora, qua c'era, perché non mi entra dentro una foto, ma, cosa è successo? Ok, doppio tap, stinco, Wüster, uovo su pezzo di prosciutto, e poi sotto i Wüster, e ovviamente una buonissima, Wieneschnitzer, era per due ragazzi, in questo locale ho trovato anche un telefono leggermente vintage, questa foto è venuta bene, questa è già un po' meno bene, me la sono fatta scattare, non è un selfie fatto con la cam anteriore, e faccio vedere anche, quando sono tornato in aereo, mi sono fatto fare una foto, anzi, prima vi faccio vedere due pezzettini di video della colazione, e poi, sempre sempre qualcosa che non posso far vedere, mannaggia, c'era un embargo anche lì, punta e scatta con la cam anteriore, male male, male male, guardate, tutto sovraesposto là in fondo, bene invece questo con la cam posteriore, benissimo questo aereo, fantastico, e sto facendo vedere in fondo, diciamo, anche un altro pezzettino di video senza audio, perché, ripeto, c'era una cosa sotto l'embargo che ho dovuto spostare, e poi altre fotografie fatte qua a Milano, insomma, veniamo al... dunque, no, prima volevo farvi vedere questo pezzettino di video con Antonio, ci siamo divertiti un sacco, non mi faccio sentire l'audio perché, vabbè, niente, censura anche qua, insomma, è un demo di foto e video censurato, scatta bene le foto, in teoria ha lo stesso comparto il Pro, ve l'ho visto un po' più in difficoltà rispetto al Pro nel punta e scatta, avreste visto quel selfie un pochino sovraesposto, o anche alcune fotografie di cibo che ho fatto non perfettamente a fuoco, non so perché, diciamo, bene, anche i video bene, lui è sicuramente un camera phone, ma non top, non so, mi sembra che il Pro abbia un qualcosina in più, mentre per quanto riguarda l'audio, devo dire, qua, molto, molto bene, vedete anche qua, ci ha messo un pochino ad aprire Spotify, rispetto ad altri top, non so, sarà l'888, ma, vi dicevo, l'audio, top, sentite, stereo, e anche il volume è decisamente alto, anche una buona presenza di corpo e di bassi. Finiamo le conclusioni, 1000€ sono troppi, va bene, per carità, ormai vanno bene tutti, ma qualche sbavatura confrontandolo, ecco, è proprio forse il confronto con il Pro che lo frega, sembra quasi che Oppo abbia fatto questo Find X5 per dire, vabbè, comprate il Pro, perché tanto costa 300€ in più, che dice, 300€ sono tanti, ok, ma tra 1000 e 1300 il divario poi non è così tanto, 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 se arrivi a 1000, secondo me riesce anche ad arrivare a 1000 e 3, e mi fanno preferire il Pro, che è più bello, allo Snapdragon 8 generazione 1, che va decisamente meglio da un punto di vista proprio energetico, invece sono curioso per il Lite, che a 500€ potrebbe essere un ottimo medio di gamma. Ripeto, non va male, ma gli preferisco di gran lunga il Pro. un saluto ad AndreaGrazzi.com Grazie a tutti.